L'orrore ci mostra a noi stessi e ci permette perciò di cambiare. Un giorno saliamo di canto, piccaneibani, vampiri, creature maledette, cantori nello scurità, nel momento più impensabile e forse di fronte alle persone che più amiamo. Voi che leggete, guardate dallo specchio, scoprite l'essere mostruoso che vibra sotto la vostra pelle. Provate a conoscerlo, potreste infilarvi un dito nelle orbite, agganciarlo e tirarlo fuori, sarebbe troppo doloroso lo so. Allora ascoltatelo, dategli un pezzo del vostro respiro, fatelo addormentare, risvegliare con i racconti che state per leggere. Grazie a tutti.